Dunque abbiamo la riunione formale del Consiglio per la Competitività. È un consiglio importante perché svilupperemo due punti all'ordine del giorno. Il primo riguarda il ruolo della ricerca e dell'innovazione per la crescita, per lo sviluppo e per il recupero di competitività dell'Europa. E il secondo tema, altrettanto importante, è la costituzione di uno spazio europeo della ricerca, un obiettivo che avremmo dovuto già sviluppare in questi anni, ma nella rivisitazione della strategia 2020 diventa un punto basilare. Noi riteniamo che un mercato aperto, trasparente, di reclutamento, di mobilità dei ricercatori, da un lato, e la possibilità per tutte le istituzioni di avere un networking nelle infrastrutture di ricerca siano i due elementi molto concreti su cui la nuova Commissione e il nuovo Parlamento lavoreranno.